E' stato inaugurato il nuovo parcheggio delle biciclette a Pordenone, primo elemento di una nuovissima velo-stazione situata nell'area antistante la stazione dei treni. Questo parcheggio necessitava da tempo di un intervento di recupero, sia a beneficio dei pendolari, che qui lasciano la propria bicicletta, sia per i viaggiatori e i turisti che arrivano in città. Questa è un'area ovviamente molto trafficata e molto frequentata anche da pendolari e da ciclisti, come si può vedere nel momento in cui non ci sono stalli per mettere le biciclette si crea confusione, caos e anche degrado. L'obiettivo è quello di creare una velo-stazione, quindi un'area attrezzata per chi utilizza la bicicletta e la vuole lasciare in un luogo sicuro e anche coperto. Contestualmente proprio quella casetta servirà poi per ospitare entro la fine dell'anno un progetto di bike sharing, quindi per garantire anche un servizio aggiuntivo. Così come con GSM stiamo studiando anche un servizio per il deposito bagagli, per coloro i quali magari devono attendere il treno. Inoltre il grande progetto prevede anche, è già stato fatto, l'acquisizione del rudere che è alle nostre spalle, il quale completerà nel corso degli anni, non possiamo fare tutto in pochi mesi, creando un ulteriore spazio al servizio delle biciclette per lasciare in luogo coperte e anche assistiti. Insomma, un po' alla volta dare un solo decoro ma anche funzionalità a un luogo così importante come cosa la stazione. Un luogo fondamentale per incentivare quella che è l'intermodalità e la mobilità dolce. Questo parcheggio prima era un luogo molto difficile da utilizzare, spesso luogo di abbandono più che luogo di interscambio per la bicicletta privata. In più abbiamo allestito anche delle postazioni e abbiamo comprato ulteriori 15 biciclette per garantire il bike sharing all'interno del contesto cittadino. Il lavoro ha avuto una gestazione lunga perché il finanziamento si è attardato ad arrivare e noi abbiamo presentato la domanda nel 2018 per il finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente per questo intervento. I fondi sono arrivati decisamente dopo e poi con il periodo del Covid chiaramente alcuni materiali hanno fatto un po' di fatica ad arrivare. Ad ogni buon conto comunque siamo qua e oggi lo inauguriamo.